Nona edizione di Alta Quota, da subito precisiamo l'ingresso gratuito per venire incontro sia a chi espone ma soprattutto a chi deve favorire la nostra montagna. Io credo che sia importante dare un segnale, anche se piccolo, anche se proprio non molto significativo, di andare incontro alle esigenze un pochino di tutti. È chiaro che gli espositori sono qui proprio per promuovere i loro prodotti, per promuovere le loro stazioni sciistiche, per promuovere qualsiasi cosa possa essere attinente alla montagna. Il visitatore va a vedere e se ha lo stimolo di non spendere neanche un euro per andare a visitarlo viene più volentieri. Quali sono i numeri di questa fiera? Quanti sono gli espositori e da dove vengono? Gli espositori sono oltre, o meglio i marchi sono oltre 150 e vengono anche degli espositori da 10 o 15 stazioni sciistiche straniere, Francia, Svizzera, Belgio e Austria. In conclusione, perché Bergamo deve puntare sulla montagna? Perché il territorio della provincia di Bergamo è per tre quarti montagnoso, colline e montagna e poi è bellissimo andare in montagna. Io vado spesso anche al mare, però quando faccio una passeggiata in montagna, lo dico in bergamasco, come se slarga il cuore. La provincia di Bergamo punta sulla montagna, questo è importante, è un periodo di crisi, come date il vostro contributo qui alla fiera? Ma attraverso questo stand, uno stand di sistema insieme alle comunità montane di tutti i territori, comunità montane dei laghi e di tutte le nostre valli, attraverso un'esposizione di quelle che sono tutte le attività che si possono fare sulle nostre robbie. Quindi soprattutto sull'estivo quest'anno e sull'enogastronomia abbiamo la fortuna di essere una provincia record, abbiamo nove formaggi DOP e credo che sia una cosa importante da promuovere, proprio perché a volte i turisti si attivano sia con le bellezze ma anche con la gola. Quindi montagna a 360 gradi, va bene sciare, camminare e correre, però goderla insomma in tutti i sensi? Direi di sì, stiamo puntando proprio sulla destagionalizzazione, quindi è un territorio che può essere piacevole in ogni stagione e cerchiamo di rappresentarlo in questo momento, in questo modo, proprio perché anche solo dalla Lombardia o comunque da località vicine in due giorni, tre giorni si possono vedere paesaggi e patrimoni culturali veramente importanti. Mi viene in mente il centro storico di Gromo, che è veramente una chicca e pochi conoscono. Promoberg punta ancora una volta sulla montagna bergamasca, una montagna da vivere, quali sono le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno è che abbiamo un numero molto importante di operatori, siamo circa 150 marchi presenti e abbiamo otto attrazioni sportive esterne che coinvolgono il pubblico in maniera molto dinamica. La vera novità di quest'anno è che per avvicinare ancora il grande pubblico alla montagna abbiamo deciso con uno sforzo economico molto importante di rendere l'ingresso libero tutti e tre i giorni di manifestazione. Questo quindi per venire incontro sia agli espositori ma soprattutto alle persone che vivono un momento di difficoltà ma che non rinunciano a vivere la propria montagna. Esattamente, cerchiamo di aumentare i numeri tra la domanda e l'offerta, per cui riusciamo ad accontentare tutti e due i settori, gli operatori che si vedono un numero maggiore di persone che vengono a chiedere informazioni e il pubblico ovviamente si avvicina senza costi a guardare tutto quello che fa montagna.